Buongiorno, dobbiamo fare un discorso io e voi, io e una parte di voi almeno, quelli di voi che creano delle robe online, dei video, dei testi, come faccio io insomma, però con un intento proprio di divulgare la conoscenza dell'informatica, insomma quello che succede nella tecnologia, nel mercato, a chi vi segue, chiunque che siano dieci persone, diecimila, centomila, comunque fate delle cose e della gente vi guarda. Ecco, vi voglio dire per favore una cosa, smettiamola, smettetela, di perseguire questa cultura dell'hype, dell'incredibile, della reaction a qualcosa di mostruoso su prodotti commerciali che non hanno niente di inspiegabile. Se qualcosa non la capite, non cercate di spacciarla come qualcosa di incredibile, perché le cose incredibili non lo sono, le cose incredibili sono quelle che non sapete spiegare, che non capite, e che in questo modo fate sì che anche chi vi ascolta, chi vi segue, non le capisca e quindi si formi nella testa l'idea che effettivamente stia succedendo qualcosa di incredibile, di inconcepibile, di magico. Mi sto riferendo naturalmente agli annunci di ieri e di un paio di giorni fa di GPT-4-O, che come pronunciamo? GPT-4-O in italiano? Qualcosa del genere? Insomma, GPT-4-O, il nuovo modello di OpenAI, di cui poi parleremo brevemente, non è niente di incredibile, non è niente che sconvolge l'umanità e che vi priverà della vita e del lavoro. Se vi priverà del lavoro, evidentemente il vostro lavoro non ha sufficiente valore per competere con un'intelligenza artificiale, questo è sensato. Quindi smettetela per favore di fare i video, da oggi non lavorerò più, ho perso gente che ha decine di migliaia di follower, che fa reazioni incontrollabili, oddio non so più cosa dire, adesso l'umanità è spacciata, questo sostituirà. Perché vi ricordo che l'automazione che rimpiazza i lavori umani, manuali, anche cerebrali, è un processo che va avanti da anni, da decenni, è un processo incrementale. E non è imprevedibile, lo sappiamo che stiamo andando in quella direzione. Negli enormi magazzini di Amazon lavorano poche persone, perché ci sono i robot. Su molti siti non si interagisce più con un essere umano quando si ha bisogno di assistenza, ma con un chatbot. Chi prima dell'avvento di ChatGPT aveva lavorato un pochino con TensorFlow o con DeepMind, aveva già intuito, aveva già capito quale sarebbe stata l'evoluzione. E quando è stato presentato ChatGPT, per i tecnici o per quelli che avevano un minimo di cognizione del mercato, non è stata una cosa rivoluzionaria, devastante, ma è stata un'anticipazione di quella che sarebbe stato il prossimo step evolutivo di un processo che però era in atto da anni e che quindi poteva essere spiegato bene. Quindi quello che voglio dire, quando mettete qualcosa online avete un minimo di responsabilità nei confronti di chi vi segue, soprattutto se chi vi segue vi considera un'autorità nel campo, vi considera qualcuno di competente e quindi vi attribuisce una certa autorità. Avete la responsabilità di spiegare come funzionano le cose tecnicamente, perché quello che fa GPT-4O è davvero un'evoluzione rispetto a quello che fa GPT-4O, ma non è una rivoluzione, è un processo che tra l'altro si sta vedendo in parallelo anche su altre LLM, anche su altre tecnologie, che se aveste spiegato, che se spiegaste, se faceste vedere, forse chi vi ascolta, chi vi guarda, si renderebbe conto che l'evoluzione è globale. Non è OpenAI che sta portando avanti un qualcosa di incredibile, di assurdo, che chissà dove saremo fra 10 anni. Chissà dove saremo fra 10 anni? Lo possiamo benissimo sapere, perché l'evoluzione che stiamo guardando è iterativa, è incrementale, quindi lo sappiamo che GPT-5 sarà meglio di GPT-4, farà le cose in modo migliore e più veloce. La grande rivoluzione di GPT-4O è la velocità, è la latenza delle risposte, non è la capacità di parlare, perché quello esiste già in tanti modelli, poi vi farò sentire delle demo, la capacità di dare delle emozioni alla voce. È da anni che DeepMind la sta studiando e l'ha rilasciata anche al pubblico. Sono processi iterativi, incrementali, di tecnologie che stanno migliorando, ma sono sempre tecnologie che si basano su statistiche, su algoritmi che sono fallaci e che quindi sostituiscono gli esseri umani esattamente come un robot che si occupa di una task che può essere automatizzato, sostituisci un essere umano che non fa altro che ripetere un task automatizzabile. Quindi vabbè, basta, mi sono un po' un chiacchiato perché ieri, stamattina, insomma, continuo a vedere su TikTok, su YouTube, video di persone con le facce così, oddio, c'è GPT-4, poi è gratuito, il mondo esploderà perché questa cosa è incredibile, la gente si innamorerà delle ragazze. Vi ricordo che esistono già i bot dating con cui le persone hanno delle relazioni finte, di cosa stiamo parlando. Quindi vabbè, basta, fate divulgazione, fatela bene, spiegate tecnicamente cosa sta succedendo, non fate gli amplificatori del live di OpenAI, che ripostate i video di OpenAI promozionali facendo vedere le cose incredibili che si vedono nelle video, che sono video confezionati ad arte per farvi vedere le cose che OpenAI vuole far vedere. Se voi amplificate quel segnale non state altro che facendo pubblicità gratuita a OpenAI, non state facendo nessun servizio per chi vi segue e chi, appunto, ripeto, vi investe in una certa autorità, per cui avete una responsabilità. Se siete dei tecnici, se siete delle persone che queste cose le capiscono e sono in grado di spiegarle, cercate di spiegarle, altrimenti se le considerate qualcosa di incredibili, vuol dire che non le avete capite e non siete in grado di spiegarle. Quindi, per favore, evitate quantomeno di dire che siete in grado di capire queste cose e di spacciarvi per autorità nel campo. Siete, in questo modo, dei megafoni dell'azienda che sta vendendo queste tecnologie. Vabbè, basta, ora vi racconto un po' in breve, perché questo alla fine è un podcast di news, non sto tanto ad approfondire cosa ha presentato OpenAI e poi anche cosa ha presentato Google, perché c'è stato ieri anche l'evento di Google. Allora, 15 maggio, prendo l'articolo di D-Day che spiega GPT-4-O a firma dell'ottimo seggio donato, come sempre, così anche cerco di riassumerlo un po'. Allora, nel corso dell'evento Springs Update del 13 maggio, quindi si parla di due giorni fa, OpenAI ha presentato il nuovo modello linguistico GPT-4-O che sarà disponibile anche per gli utenti non abbonati, in parte almeno, poi vediamo. La O di GPT-4-O sta per Omni e indica che il nuovo modello di OpenAI è di tipo multimodale. Multimodale, l'avevamo già visto cosa vuol dire, no? Significa che può gestire una quantità di input diversi, quindi tipo test, immagini, video, audio, diversi input, non solo il testo. Ora, nei precedenti GPT, la modalità voce di CiasGPT, che appunto consente di dialogare con la voce, era composta da una pipeline di tre modelli separati. Uno si occupava di trascrivere l'audio, GPT di ricevere e generare il testo e il terzo convertiva il testo in audio. La grossa innovazione di GPT-4-O è che questo processo ora è tutto unificato in un nuovo modello, cioè in un unico modello. C'è tutto il modello multimodale che gestisce sia testo che immagini e video. E questo porta a un notevole abbassamento della latenza, perché se prima si parlava di circa 5 secondi per la latenza per generare questa risposta audio, qui invece si scende a frazioni di secondo, e quindi si ha quasi l'illusione di parlare con un essere umano, perché i tempi di risposta sono molto bassi. Poi nella demo si è visto CiasGPT con GPT-4-O modificare a comando l'espressività e l'enfasi della propria voce, cioè quell'inflessione di tono e di emozione, che poi alcuni modelli riescono a riprodurre, descrivere ciò che vedeva, quindi collegandosi alla telecamera dello smartphone riesce a descrivere la cosa che sta vedendo in temporale, cosa tra l'altro molto utile per gli ipovedenti e non vedenti, che infatti è sfruttata da una start-up, con un'app che si chiama Be My Eyes, che fa esattamente questo, cioè permette a un ipovedente o a un non vedente di ricevere informazioni sul mondo circostante proprio attraverso gli occhi virtuali dello smartphone, che quindi gli spiegano cosa sta succedendo. Be My Eyes, progetto di cui avevamo parlato molto interessante. Sono state aggiornate anche le API di GPT-4-O, presentate come due volte più veloce, 50% più economiche, e con un limite di richieste 5 volte superiore rispetto a GPT-4 Turbo. GPT-4-O è già in distribuzione, quindi le funzionalità di testo e immagini sono già in fase di distribuzione e sono disponibili anche per gli utenti non abbonati e naturalmente per gli utenti plus che hanno un limite di messaggi 5 volte superiore. Il rilascio della nuova modalità voce con GPT-4-O arriverà nelle prossime settimane solo però per ChargeGPT Plus in versione alfa, quindi per chi paga. Gli utenti che usano ChargeGPT gratis avranno però qualche novità e poi andremo a vedere. Si scopre che non solo si potrà usare il modello GPT-4-O, ma si potrà anche accedere a internet tramite Browse with Bing, che in pratica è quello che già vi permette di fare Bing o l'ex Bing che adesso si chiama Copilot di Microsoft. Non solo, si potranno analizzare dati e grafici in documenti allegati come PDF, TXT, PPT, DOC, XLX e CSV, inviare immagini al chatbot come input, caricare file per elaborarli, accedere alla memoria di GPT che quindi ricorderà gli argomenti affrontati con l'utente, quindi insomma il thread. Infine GPT Store, cioè il negozio dove trovare gli agents, gli agenti GPT, realizzati da altri utenti per scopi specifici, quindi i vari chatbot diversi, ora è aperto a tutti, mentre in precedenza era esclusivo per gli utenti plus. E qui sulla news su OpenAI che parla di GPT-4-O per gli utenti free di ChargeGPT, ci dice un po' che cosa avranno a disposizione questi utenti. Beh, ci sarà appunto GPT-4 come modello disponibile anche per la chat gratuita. Le risposte saranno fornite dal modello e aumentate dal web, quindi sarà possibile accedere al web. Poi si potrà analizzare dati, creare chart, si potrà parlare di foto, quindi ecco processare input multimodali, si potranno fare upload di file per avere assistenza su quello che il modello sta vedendo nel file, poi accedere come abbiamo detto a GPT Store e memory permette di avere una memoria, insomma delle chat passate, dei thread passati per ripartire da quelle conversazioni. Naturalmente qua sul sito di OpenAI trovate varie demo, non solo, su YouTube ci sono un sacco di demo mostrate proprio da OpenAI sulle possibilità, soprattutto vocali, perché è quello che fa più presa sul pubblico, no? È più impattante vedere l'essere umano che conversa con il chatbot, parla di stare in R, no? Questo richiama naturalmente l'immaginario. Lo stesso Sam Altman ha tweetato, proprio ha scritto un tweet, con scritto soltanto R, quindi OpenAI sa benissimo come vendere questo prodotto, come renderlo appetibile e come fare l'effetto wow, come creare questo effetto al pubblico, no? Basandosi sulla cultura pop di massa e quindi quella era un'occasione ghiottissima. Vi faccio sentire un piccolo estratto da una demo. Hey, ChatGPT, I'm Mark. How are you? Oh, Mark. I'm doing great. Thanks for asking. How about you? Hey, so I'm on stage right now, I'm doing a live demo and frankly I'm feeling a little bit nervous. Can you help me calm my nerves a little bit? Oh, you're doing a live demo right now? That's awesome. Just take a deep breath and remember, you're the expert here. I like that suggestion. Insomma, questa è una delle demo, poi ce ne sono altre dove per esempio Chen conversa con Mira Burati dove lei parla un po' di italiano, lui parla inglese e il bot è in grado di tradurre in tempo reale più o meno quello che stanno dicendo entrambi. Questo potrebbe essere molto utile effettivamente per tradurre in tempo reale quando si va in un paese estero e quello anche che viene dimostrato è la capacità di cambiare il tono. Per esempio a un certo punto gli viene chiesto di raccontare una ninna nanna ecco però poi in questa ninna nanna viene chiesto di mettere più enfasi nelle emozioni quindi la voce diventa più carica, più emozionale poi gli viene detto di fare la voce di un robot e questa viene riprodotta quindi insomma c'è questa capacità di cambiare il tono di voce e le emozioni direttamente chiedendolo al bot. Naturalmente poi tutti hanno notato che la voce in particolare di questo assistente è una voce femminile particolarmente diciamo così su adente e quindi anche lì poi ci sono sprecate ci sono sprecati riferimenti a Air e quindi le previsioni di un'umanità con persone che vanno a flertare con gli assistenti come peraltro se non stesse già accadendo ora naturalmente anche qua è un'opera di marketing di OpenAI che sa perfettamente che dare questa inflessione e questo tono di voce all'assistente è proprio il modo perfetto per far parlare di sé. Ma come ho detto queste cose non sono nuove per chi bazzica un pochino il mondo dell'intelligenza artificiale vi faccio sentire per esempio il text to speech di Google Cloud che è insomma un progetto di DeepMind vi faccio leggere questo pezzetto dell'inizio di un articolo che trovo sul Guardian che parla proprio di OpenAI l'ho messo nella prova nella finestrina di prova del text to speech di Google Cloud qui si parla di un modello che è sperimentale ed è disponibile soltanto per l'inglese americano quindi si chiama Studio e non è disponibile per altre lingue per adesso soltanto in inglese gli ho dato questo piccolo testo da provare a leggere gli ho impostato la voce Studio con una delle due disponibili dopodiché gli ho lasciato lo speed e il pitch all'impostazione di default quindi sentite un po' come lo legge Insomma sentite che c'è un certo quantitativo di emozione nel senso che sembra più umana questa voce rispetto a quelli a cui siamo abituati dagli assistenti AI classica forse non è al livello della demo che abbiamo sentito però non è neanche staged questa roba cioè gli ho messo io un testo che ho preso a caso e questo è un sample che possiamo provare gratuitamente per farvi capire che la ricerca sta da anni facendo queste prove qui siamo su Google Cloud e questo modello è disponibile da un po' di tempo vi faccio sentire un altro esempio su un altro servizio che si chiama Typecast ce ne sono vari altri anche qui ho messo quel pezzetto di testo ho selezionato un modello che è un modello femminile e gli ho detto che l'emozione con cui deve leggere questo testo è la rabbia quindi vediamo come interpreta la rabbia con lo stesso testo questo modello di Typecast sentite quindi l'inflessione molto arrabbiata di questo bot che legge questo testo questo stanto per farvi capire che GPT-4O non sta portando nessuna cosa incredibile e rivoluzionaria sta semplicemente iterando su cose che già si stanno sperimentando già si stanno vendendo esistono già sul mercato da altri produttori li potete trovare online li potete testare e non stiamo di fronte a una rivoluzione inaspettata vi do altre due piccole chicche su GPT-4O intanto che prima di essere lanciato era stato presentato diciamo in qualche modo in maniera anonima in maniera offuscata sul sito di diciamo test informali di chatbot che si chiama chatbot arena era stato presentato questo modello che nessuno sapeva bene cosa fosse che si chiamava GPT chatbot poi in realtà era stato rinominato erano state provate altri modelli che si chiamavano I'm also a good GPT-2 chatbot insomma OpenAI aveva fatto delle prove insomma avete capito che dietro a questo modello c'era in realtà GPT-4O che cos'è chatbot arena è un sito dove gli utenti possono conversare con due modelli di AI random pescati random e poi darà la propria opinione su quale modello ha dato le risposte migliori quindi crea una classifica praticamente con questo benchmark fatto dagli utenti che è abbastanza stupido infatti i ricercatori di AI un pochino più scafati come Simon Willison ha detto lo ritengono un po' una ciofeca perché questo non è modo di fare ricerca questo è un modo per fare hype di mercato di marketing e quindi creare queste aspettative negli utenti che senza spiegare cosa sta succedendo anche qua siamo di fronte a un sito che non fa divulgazione ma amplifica solamente il messaggio di hype e di marketing delle occasioni insomma questo per diviso tanto che su chatbot arena era passato anche GPT4O e aveva ottenuto degli ottimi punteggi cioè gli utenti avevano molto gradito le risposte di GPT4O rispetto agli LLM competitor e l'altra notizia invece è che il co-founder di OpenAI e quello che era il chief scientist cioè Ilya Sufkever ha lasciato la compagnia l'ha lasciato ieri l'ha detto OpenAI in un messaggio sul suo blog scritto da Sam Altman che appunto ha scritto naturalmente che è molto dispiaciuto di questa partenza vi ricorderete di Sufkever era quello anche coinvolto nella insomma nella faccenda che aveva visto Sam Altman poi defenestrato da OpenAI quando c'era stata quella rivoluzione interna insomma con il board che aveva deciso di sfiduciare Altman insomma poi Altman era stato riportato in azienda Sufkever che faceva parte diciamo di quella congiura poi in qualche modo si era pentito era rimasto in azienda ma non si sapeva bene che ruolo avesse che cosa facesse e adesso dopo la presentazione proprio il giorno dopo la presentazione di GPT-4O Sufkever si è dimesso ha annunciato le proprie dimissioni ha detto che deve lavorare a progetti personali di cui ci parlerà in futuro quindi poi vedremo un po' che cosa succederà nella seconda news vi faccio un po' una carrellata prendendo naturalmente da The Verge che fa questi questi recapponi di quello che Google ha presentato all'Io che ormai farebbe meglio chiamare AI perché in pratica presenta soltanto cose che riguardano le AI ma ce lo aspettiamo e insomma vi faccio una rapida carrellata giusto per capire dove si sta muovendo Google come siamo messi quali sono le cose che lancerà nei prossimi mesi allora intanto Google Lens ti permette di cercare di fare proprio delle ricerche attraverso un video sapete che Google Lens vi permette già di fare delle ricerche attraverso le immagini bene adesso invece ve le fa fare con il video quindi mentre voi con lo smartphone state filmando qualcosa potete intanto fare domande a Google che vi risponderà proprio sul video in tempo reale quindi anche qua un afficio naturalmente powered by AI poi Gemini risponderà alle domande sulla foto library quindi qua c'è una nuova funzione che si chiama Ask Photos in cui Gemini va alla ricerca di tutte le foto che avete nella vostra library vostra in realtà di Google ormai gliele avete fornite e quindi fa questa ricerca in mezzo a tutte le foto che ha di voi e vi dà delle risposte alle domande che avete nella demo il CEO Sundar Pichai ha fatto una dimostrazione chiedendo a Gemini qual è la sua targa qual è la targa della sua auto e lui Gemini ha risposto con il numero della targa e poi facendogli vedere le foto da cui l'ha presa poi Gemini diventa più veloce ora Google ha introdotto un nuovo modello che si chiama Gemini 1.5 Flash è un modello multimodale è potente come Gemini 1.5 Pro ma è ottimizzato per una alta frequenza e una bassa latenza in pratica è una risposta indiretta a GPT-4O perché fa risposte da risposte con una latenza molto più bassa quindi in tempi molto più brevi e tra l'altro migliora le sue abilità di tradurre ragionare scrivere codice e il context window quindi quanto input può ricevere ecco è stato raddoppiato rispetto a Gemini 1.5 Pro qua non vi sto a fare vedere demo o approfondire perché in pratica quello che abbiamo detto per GPT-4O vale anche per Gemini non è un caso naturalmente che Open Air abbia presentato GPT-4O esattamente il giorno prima di Google I.O evidentemente c'erano informazioni su cosa Google volesse presentare e quindi per essere pronti insomma come competitor e hanno presentato esattamente il giorno prima quel modello poi Google in pratica aggiunge Gemini alla chat di Workspace quindi quando siete su Docs su Sheets Slide eccetera in Drive ecco avete l'assistente in chat che può rispondere alle vostre domande in base alla pagina su cui siete al documento che avete davanti può anche scrivere delle mail per voi basandosi sul documento che state guardando e va bene poi c'è Project Astra che è un assistente quindi è un assistente multimodale app sullo smartphone che fa quello che abbiamo già visto fare con GPT-4O e fa quello in pratica che ci si aspettava anni fa che avrebbero fatto gli assistenti di smartphone come Google Now Siri eccetera che invece non sono mai riusciti a fare ora Astra pare che ecco che faccia quelle robe lì quindi vede la vostra telecamera ricorda le tue cose sa dove sei può fare le cose che gli chiedi tanto quello che si pensava facesse roba tipo Rabbit R1 e queste cose qua insomma l'assistente projectasta tra l'altro c'è un video condiviso qua su Instagram e vedete il tizio che gira con lo smartphone gli chiede le cose che sta vedendo a schermo qua addirittura del codice e dopodiché Astra è in grado di leggere cioè Astra Gemini che sta sotto ad Astra è in grado di leggere processare l'immagine capire che cos'è rispondere insomma quello che ci aspettiamo che faccia è quello che fa anche GPT-4O questo tipo di assistenti fanno esattamente queste cose e tra l'altro questo significa anche che non solo ora il testo glielo date con l'input testuale potete anche scriverlo su un foglio di carta e farglielo leggere quindi anche una per esempio un'equazione matematica o un chart ecco scritto a penna su una lavagna o su un foglio è praticamente equivalente dello scriverglielo in input testuale quindi è questa cosa qua e poi c'è Veo che è una specie di competitor di Sora quindi è una proprio risposta diretta a Sora è un generatore di video che può generare video 1080p basandosi su un input testuale o su immagini e video anche quindi è multimodale per quanto riguarda però i video poi naturalmente possono essere prodotti in molti stili e Veo è già disponibile per alcuni creator e si dice che Google lo stia offrendo alle case produttrici di Hollywood c'è naturalmente il video su DeepMind di Veo dove potete vedere un po' di demo vedete qua per esempio il cowboy che fa la sua cavalcata sul tramonto altre cose video di strani spiedini di pollo un'aurora boreale il faro con le onde che si infrangono sugli scogli che tra l'altro curiosamente è un video che avevamo già visto con Sora insomma immaginate ecco queste robe qua se non ci fosse Sora sarebbero sembrate incredibili no? incredibili allucinanti oddio end of the world e invece già abbiamo visto Sora siamo in grado di spiegare cosa sta accadendo e quindi non ci meravigliamo poi troppo certo la meraviglia è sempre un bel sentimento è bello meravigliarsi di fronte a una cosa del genere che effettivamente qualche anno fa non era non era possibile non l'avevamo vista però già sappiamo qual è la tecnologia che ci sta dietro cosa può farsi generare e quindi non ci stupiamo più tantissimo tra l'altro faccio notare che questa roba qua come anche la generazione di audio che tra l'altro Google fa con un servizio che si chiama Udio ecco dopo qualche minuto di tentativi viene già a noia ve lo posso assicurare poi c'è la risposta invece a GPTs quindi la possibilità di creare dei custom chatbot su Gemini che si chiamano GEMS quindi esattamente come GPTs si può creare il proprio chatbot personalizzato naturalmente poi c'è Gemini Live che porta un'inflessione più naturale alla voce di Gemini e quindi parlare con Gemini sembra più naturale abbiamo già visto c'è Circle to Search che permette di risolvere problemi matematici con le AI e poi c'è un'aggiunte AI a Google Search che quindi potenziano i risultati della vostra ricerca proprio grazie all'AI aggiungendo informazioni contestuali e altre cose e vabbè questo è un rollout per alcuni dopodiché su Android la detection dello scam telefonico è adesso affidata all'AI quindi ci sarà un AI che cerca di capire se la telefonata che state ricevendo è potenzialmente scam e quindi vi chiede vi mette in guardia sulla telefonata che state per ricevere questo potrebbe essere interessante perché riceve molto scam come me per esempio in generale l'AI sta per arrivare in massa sui pixel in generale sugli Android device ma avevamo già visto qualche mese fa con quello che Google stava fornendo come API agli sviluppatori di Android in generale è tutto powered by Gemini lo stesso Gemini però sarà anche presente in Google Chrome con una versione nano quindi Gemini Nano che è la versione naturalmente molto più piccola molto più leggera di Gemini sarà embeddata in Chrome Desktop quindi con Gemini Nano che potrà essere eseguito in locale su Chrome potete avere delle assistenze insomma all'esplorazione alla navigazione direttamente in Chrome ultima cosa c'è una upgrade a Synth ID che è il watermarking sapete che uno dei temi di cui si parla è la possibilità di fare detection che un contenuto audio, video e immagini sia effettivamente stato generato da un AI e una modalità per farlo è l'aggiungere un watermark proprio a questi contenuti la tecnologia che usa Google si chiama Synth ID ora l'ha migliorata quindi nei video prodotti d'avvio ci sarà questo watermarking che quindi permetterà di fare detection della generazione del contenuto video allora questa puntata sarà sicuramente lunghissima quindi vi do i link senza troppo spiegarveli il primo lo trovate su 404 Media e si intitola Open AI's GPT-4O isn't air it's metropolis quindi dice non è come il film air più che altro è come il film metropolis quindi è proprio una distopia fantascientifica è un bel articolo simpatico insomma non troppo lungo che parla proprio anche un po' di metropolis e di air e analogie con GPT-4O è carino ve lo consiglio l'altro invece è per i nostalgici per noi sviluppatori nostalgici perché si parla di basic in particolare si parla dei 60 anni di basic perché sì basic ha 60 anni questo articolo lo trovo su The News Tech si intitola Basic at 60 appunto E quindi fa un po' una storia di basic e un'analisi di cosa ha fatto di cosa ha voluto significare per la storia della programmazione è molto carino naturalmente per avere un contesto storico sull'evoluzione dei linguaggi di programmazione il basic insomma io ho iniziato a lavorare con Turbo Pascal quindi sono della scuola Pascal però basic immagino che qualcuno di voi ci abbia iniziato a lavorare e magari qualcuno ci sta ancora lavorando con le evoluzioni che poi basic ha avuto in Microsoft negli ultimi anni insomma consiglio di leggerlo tenetevelo lì nei vostri bookmark e poi magari dateci un'occhiata tanto è un articolo che in 5 minuti ecco ve lo pappate ho finito qui scusate per l'intro un po' incacchiata mi sono accorto adesso che forse l'ho fatta un po' troppo arrabbiata però veramente ho sentito l'impulso di farlo dopo aver visto alcuni video che ho trovato imbarazzanti e non degni della reputazione che chi viene molto seguito online e che si spaccia per magari il divulgatore tecnologico informatico dovrebbe rispettare insomma l'ho fatto spero di non fare in cacchiera a nessuno non ho fatto nomi tanto comunque quindi grazie di nuovo per avermi seguito adesso il podcastone si deve prendere una pausa in realtà perché ho degli impegni quindi domani sarò i prossimi due giorni in realtà sarò a Verona a The Happy Day e quindi non ci sarà buongiorno la settimana prossima pure i primi giorni sarò impegnato quindi probabilmente tornerò tra giovedì e venerdì di settimana prossima quindi un po' un po' di pausa e nel frattempo insomma fatti bravi non guardate i maledetti divulgatori che non vi sanno divulgare un bel niente ma leggete leggete gli articoli di approfondimento un po' insomma ho cercato di darveli andate a vedere l'approfondimento tecnico per capire qual è lo stato del mercato lo stato degli LLM cosa si sta facendo cosa si sta studiando e dove si andrà nei prossimi anni basta vi ho già fatto il mega pippone grazie di nuovo per avermi seguito e noi ci vediamo a un prossimo buongiorno ciao